E io invece non mi ce vedo per niente, hai capito? Io sto pezzonato, e ho l'artiglia, i piatti li lavo. E chi li lava sti piatti? E facciamo come le altre volte, chi parla di primo li lava lui. Buonasera, sono un amico di Marisa, sono venuto per... Sì, mi hanno detto a fuori. Buonasera, ciao Marisa, sono venuto a fare delle chiacche.